Dopo il foglio di via ad alcuni parcheggiatori abusivi, ieri, nonostante la bella giornata, la sosta era libera a Posillipo. Nessuno a chiedere soldi nei pressi dei Lidi o al Virgiliano. Non così però nel resto della città. Difficile liberare Napoli dai ras della sosta. I sette fogli di via dell'altra sera qualche effetto però lo producono. Ma il rischio è che anche solo in questa zona l'effetto sia solo temporaneo. Ieri strade e aree libere intanto a Posillipo. Nemmeno nel viallone del Virgiliano l'ombra di un abusivo, come a via Lucrezio Caro, tutto fila liscio. Qualche metro dopo la discesa della gaiola si trova persino posto da entrambi i lati. Ma non vanno così le cose sul lungomare Caracciolo, a Santa Lucia, al Chiatamone, alla riviera di Chiaia, senza dimenticare Mergellina, alle spalle degli chalet. Dopo l'allontanamento dei sette abusivi che taglieggiavano gli automobilisti della movida di Posillipo, è cresciuto intanto il movimento di ribellione con la pagina Facebook Io odio i parcheggiatori abusivi. Una pagina che ha incrementato i suoi like ora dopo ora. Sono gli stessi cittadini napoletani a segnalare situazioni di parcheggi selvaggi o di abusivi in tutta la città. Molti segnalano anche il prezzo pagato e le zone dove ancora sono assediati. Intanto i sette parcheggiatori si sono allontanati da Napoli per il momento per evitare l'inasprirsi del provvedimento del GIP dopo l'inchiesta dei carabinieri. Questo è il primo provvedimento del genere in Italia ed è destinato a fare scuola. L'accusa per tutti è di estorsione in concorso.